Ragazzi fatemi camminare perché sono nervoso Sono nervoso perché la partita l'ho vista tutta Nonostante ci fossero altre partite ovviamente priorità al Padova Sono nervoso perché questi tre punti potevamo portarceli a casa E invece abbiamo solo pareggiato con la Juventus Next Gen E non abbiamo bissato il successo dell'andata da loro Segna sempre e solo lui Michael Liguori Ora non sono Liguori a portata di mano Però segna solo lui Michael Liguori L'altro Michael De Marchi Non fa gol neanche con le mani Neanche se i portieri fossero quelli del calcetto balilla Senza braccia Fermi che fanno solo il movimento così in orizzontale Neanche li insegnerebbe Porca di una puttana Datemi l'escano Che magari qualcosa di meglio fa Datemi l'escano Per favore Ma soprattutto Come fai a dare giallo per simulazione a Liguori? Che boh! Ci poteva stare rigore lì secondo me Non sono di parte Secondo me era Non netto Ma ci poteva stare rigore Ma non è che mi dai giallo per simulazione Ma simulazione di cosa? Tu simuli di essere un arbitro In realtà Sei un postino Ok Comunque poi Segnano invece loro La Juventus Con il calcio di rigore Fallo di mano E lì ci sta Segna Non mi ricordo nemmeno chi In questo momento Mi sfugge Il fatto sta che pareggiano E avevamo meritato Di vincere Ma Come fai a dire di aver meritato di vincere Se poi L'occasione più grande Della partita Te la mangi Vero Enrico Piovanello Come hai fatto a mangiarti un gol Così davanti alla porta Meno male che non ero allo stadio Enrico ti voglio bene Sei Un gran giocatore Che deve migliorare tantissime cose Ma secondo me Hai del potenziale Sfruttalo Non fare ste cose Da De Marche Ormai mi aspetto sta cosa Non da Enrico Piovanello E Santo Antonio Donnarumma Perché Alla fine Proprio alla scadere Sekulov Stava per segnare E ce lo Inculo Capito? Ce lo metteva lì Dove non batte il sole Uno a uno Come contro Vicenza Miglioramenti Sul Sul gioco In campo Però Dovevano fare meglio Meglio di così Meglio di così Voglio un attimo Parlare anche Della lettera Che Alcuni tifosi Hanno voluto Scrivere Diretta Joseph Lo chiamerò Joseph Perché il cognome Come sapete Del presidente Del proprietario Non mi riesce A dirlo Hanno ragione Cosa vuoi fare Di questa squadra Soprattutto Ogni tanto Farsi vedere Dare Una bella Raddrizzata Ai giocatori Alla società No Io sono d'accordo In pieno Con la lettera Che hanno Scritto I tifosi Non capisco Cosa vuoi fare Di questa squadra O non sai Come stiamo andando Nessuno te lo dice Perché dove sei tu Non prende Da zone Non lo so Fatto sta che Un punticino Ce lo portiamo a casa Un rammarico Perché potevamo Assolutamente Prenderci tre punti Cosa che non è successa Fatemi sapere la vostra Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Dai Arriviamo Il primo possibile Ai 500 iscritti Che sono davvero contento Mi state supportando Alla grande Un commento Iscrivetevi Su tutti gli altri Social Seguitemi Attivate ovviamente La campanellina E noi ci vediamo Più tardi Con la partita del Milan Speriamo bene Intanto Sempre Forza Padova Ciao a tutti Tosi